È stata una partita importante perché abbiamo vinto, abbiamo conquistato i tre punti importanti. Giocare contro una squadra così è molto difficile perché loro sono tutti bravi. Abbiamo fatto quello che chiedeva il mister in questi 15 giorni, anche con la sosta. Abbiamo fatto tutto bene, abbiamo arrivato fino alla fine anche con un giocatore in più. Sono soddisfatto del lavoro di oggi e anche tutta la squadra. Volevo continuare però lui mi ha dato un calcio su piedi, sono caduto e l'arbitro ha dato la munizione rossa, ha fatto molto bene perché ero da solo, andavo in porta e è successo quello. Sono soddisfatto del lavoro di arbitro perché ha fatto molto bene. Voglio sempre fare il mio meglio nelle partite. Oggi sono molto soddisfatto del nostro lavoro, non solo della mia presenza, però di tutti i giocatori, quelli che hanno entrato anche, sono contentissimo per Cassano che ha segnato anche. Però quando si vince, come ho detto prima, due settimane fa, quando si vince, vince tutti, quando si perde, perde tutti. Oggi abbiamo fatto molto bene, abbiamo fatto tutti insieme, sono molto molto soddisfatto. Pietro.